Allora oggi andremo a parlare di un altro film italiano che ho visto nelle sale in questi giorni nel momento in cui sto registrando e che è ancora presente in questi giorni in sala un film verso il quale nutrivo delle buone aspettative ma che non mi ha convinto fino in fondo però prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per aiutarmi a far crescere il canale se dovete fare degli acquisti su Amazon fateli attraverso il link in descrizione perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà automaticamente girata da Amazon al sottoscritto quindi questi sono i modi che avete per potermi supportare ma passiamo a parlare appunto del film che voglio recensirvi oggi è un film che ho già visto da diversi giorni ho voluto un po' metabolizzarlo ho voluto farlo sedimentare anche nella mia mente perché comunque a caldo non aveva avuto delle buone sensazioni, delle buone impressioni non è che le cose siano cambiate più di tanto con il passare delle ore e con il passare dei giorni ho cercato in qualche modo anche di andare a identificare a focalizzarmi su alcuni aspetti positivi ma nel complesso purtroppo il film non mi ha convinto è l'ultimo film diretto da Michele Placido ed è L'ombra di Caravaggio chiaramente ora come sempre dico con i film nuovi che vado a recensire non farò spoiler nel parlarvene anche se qui in teoria c'è come dire una sorta di dualismo perché? Perché da una parte chiaramente stiamo prendendo in considerazione un film che racconta una parte della vita di un personaggio realmente esistito e cioè Michelangelo Merisi, il Caravaggio quindi il rischio spoiler sarebbe tutto sommato relativo perché appunto è un personaggio che magari non tutti conosciamo approfonditamente io non lo conosco approfonditamente perché l'ho studiato a livello scolastico ma non ho mai approfondito l'argomento non l'ho mai più ripreso anche da un punto di vista accademico non sono stato mai un grandissimo amante della storia dell'arte tale da approfondire nello specifico il personaggio del Caravaggio però è chiaro stiamo parlando appunto di un personaggio bene o male conosciuto da tutti quindi lo spoiler non dovrebbe essere presente in realtà lo spoiler in questo film potrebbe comunque rappresentare un pericolo tra virgolette perché? Perché andandomi poi a documentare dopo la visione del film mi sono reso conto di come a livello di sceneggiatura quindi anche a livello di scrittura della storia probabilmente gli autori si sono presi tutta una serie di libertà narrative di tutta una serie di ipotesi anche su quelle che sono le varie fasi della vita del Caravaggio che sono frutto di ricostruzione fantasiosa chiaramente ripeto sempre non siamo di fronte a dei documentari siamo di fronte a dei film di finzione quindi delle opere di finzione, film biografici quindi ci sta anche che ci siano delle rivisitazioni della realtà a patto che il film poi funzioni ecco purtroppo per me l'ombra di Caravaggio è un film che non riesce a funzionare a dovere cercherò di spiegarvi la mia opinione vi dico anche subito che non è un film pessimo non è un film che io vado a bocciare in maniera completa però avevo delle buone aspettative non curiosità mille ma avevo delle buone aspettative dettate da tante cose innanzitutto proprio per il fatto di avere di fronte un film biografico e chi mi segue da un po' di tempo lo avrà capito io ho una grande passione per i film biografici tanto che ho realizzato anche una rubrica di consigli dedicata appunto ai film biografici poi abbiamo alla regia un uomo di cinema comunque italiano che si è fatto ben valere nel corso della propria carriera cioè Michele Placido ovviamente sia come regista tra l'altro in questo film si ritaglia anche una piccola parte come attore e poi comunque dalle immagini che avevo visto dal trailer da quelle che erano state anche le prime recensioni tutto sommato ecco avevo delle buone aspettative avevo una certa curiosità che in parte è stata disattesa le aspettative in parte non sono state rispettate come dicevo poc'anzi non farò spoiler quindi tranquilli potete guardare questo video fino alla fine però ecco facciamo un brevissimo cenno di trama per capire di che cosa parla l'ombra di Caravaggio facile capirlo parliamo appunto di uno dei più grandi artisti italiani degli ultimi 600 anni 500 anni appunto Michelangelo Merisi il Caravaggio interpretato in questo film da Riccardo Scamarcio e arriveremo anche a lui tra poco ed in particolar modo viene affrontata soprattutto la fase finale della vita del Caravaggio siamo tra il 1609 e il 1610 Caravaggio fu costretto in quegli anni a fuggire da Roma e rifugiarsi a Napoli perché? perché sulla sua testa pendeva una condanna alla pena capitale alla decapitazione per avere commesso un omicidio e tra l'altro questo lo costrinse anche a fuggire dalla chiesa dalla chiesa cattolica di Roma tanto che infatti proprio la chiesa in quegli anni decise di portare avanti un'indagine attraverso la presenza di un uomo di un suo uomo, di un uomo di chiesa interpretato in questo film da Luis Garrel per cercare innanzitutto di scovare Michelangelo Merisi capire dove fosse dove si fosse nascosto e anche per poterlo in qualche modo studiare per poter capire quelli che erano stati i suoi comportamenti le persone che aveva avuto vicino per poterne comprendere in qualche modo la natura umana, la natura artistica in realtà poi ripeto l'obiettivo finale era quello di trovarlo per poterlo sottoporre alla pena capitale anche se in realtà Michelangelo Merisi aspettava di ricevere la grazia papale che appunto lo avrebbe fatto come dire sfuggire alla pena capitale alla decapitazione il film poi in realtà chiaramente come dire va a raccontare quella che è la figura del Caravaggio attraverso tutta una serie di flashback che vedono come protagonista proprio Michelangelo Merisi che viene raccontato o perlomeno il film prova a raccontarlo sia su quello che è il versante pubblico artistico quindi anche poi con la realizzazione di quelli che sono i suoi più importanti dipinti le modalità che Michelangelo Merisi portava avanti seguiva per poter realizzare i suoi quadri e anche quella che era la sua vita privata una vita che comunque era abbastanza dissoluta possiamo dirlo una vita che lo portava anche a dei comportamenti non proprio limpidi soprattutto per l'epoca ovviamente soprattutto tra l'altro che lo portavano in contrasto con la chiesa appunto che non vedeva di buon occhio a prescindere Michelangelo Merisi anche perché lo posso dire non è uno spoiler è una caratteristica peculiare dei suoi quadri Caravaggio per poter realizzare i suoi dipinti soprattutto quelli che vedevano come protagonisti dei personaggi biblici per poter avere dei modelli in carne ed ossa andava a prendere soprattutto delle persone appartenenti ai ceti più bassi persone disperate persone magari non proprio anche lì molto limpide da un punto di vista dei comportamenti di quelli che erano di quella che era la loro classe sociale e questo ovviamente era visto di cattivo occhio dalla chiesa che in qualche modo considerava quasi una blasfemia tutto questo per raffigurare i santi per raffigurare la beata vergine per esempio venivano presi come modelli anche dei poveracci di distraccioni delle persone davvero appartenenti ai ceti più bassi della società e questo appunto come dire faceva sì che Caravaggio e la chiesa non fossero proprio in rapporti di Lieci tutt'altro ovviamente e mi fermo qua mi fermo qua per quanto riguarda la trama perché non credo sia necessario andare oltre nel descrivere la storia del film come vi dicevo avevo buone aspettative riguardo a questa pellicola in parte sono state disattese in buona parte sono state disattese sono rimasto deluso dal film L'Ombra di Caravaggio per diversi motivi cercherò di spiegarveli anche se non è ripeto un film da buttare via completamente mi pongo anche il dubbio che probabilmente possa essere un film maggiormente indirizzato a chi magari ha un background maggiormente come dire sviluppato del mio per quanto riguarda la storia dell'arte per quanto riguarda lo stesso Caravaggio io davvero ho pochissime informazioni sono reminiscenze scolastiche più che altro le mie che in parte mi sono servite per andare a cogliere determinati aspetti positivi del film e ci arriveremo tra poco però è anche vero che casualmente sono andato a vedere questo film al cinema e mi sono ritrovato con una persona che invece ha delle informazioni maggiormente dettagliate una persona appassionata di storia dell'arte del Caravaggio anche lui non è che abbia avuto come dire una sensazione positiva a caldo perlomeno dopo aver visto il film però tante e ripeto un film che non mi sento di promuovere ma non mi sento neanche di bocciare completamente è uno di quei classici film che ti lasciano un po' la mare in bocca difficilmente lo rivedrò anche se probabilmente una seconda visione dovrebbe essere come dire d'obbligo con una pellicola del genere probabilmente lo farò ma non sicuramente al cinema magari quando uscirai in un video per cercare di capire se magari come dire ci sia la possibilità o meno di rivalutare questo film in positivo al momento non mi sento però ripeto di promuoverlo ci sono diverse cose che non mi hanno convinto a partire innanzitutto da quella che è proprio la scrittura e diciamo l'evoluzione stessa del personaggio di Michelangelo Merisi che probabilmente viene un po' troppo appiattito in tutto il film non viene reso in maniera come dire interessante soprattutto per quella che era la complessità del personaggio per quella che era anche l'ambiguità mi verrebbe da dire del personaggio un personaggio che era probabilmente avanti con i tempi anche nel modo di concepire l'arte nel modo di relazionarsi proprio anche con la chiesa per quelle che erano le sue idee che portava nei propri dipinti e che per fortuna portò avanti con i propri dipinti che tra l'altro si salvarono spesso anche dalla decisione da parte della chiesa di distruggerli di bruciarli ed infatti sono arrivati a noi per fortuna però nel complesso quello che purtroppo non mi ha convinto è proprio la caratterizzazione di questo personaggio di Michelangelo Merisi forse forse questo è dovuto anche ad una struttura narrativa del film che anche qui non è che io abbia apprezzato più di tanto come vi ho detto poc'anzi il film prevede una come dire parte ambientata nel presente cioè tra il 1609 e il 1610 con quella che era l'indagine portata avanti dal personaggio di Luis Garrelle e proprio Luis Garrelle sarà uno degli elementi maggiormente negativi del film e ci arriveremo tra poco questa indagine a me è sembrata anche abbastanza faraginosa abbastanza ridondante lenta troppo prolissa ed è una cosa che ha appesantito a mio modo di vedere il film ora ripeto io non ho idea se nella realtà dei fatti tutto questo sia successo o meno non ho la possibilità di poterlo dire con certezza eventualmente chi dovesse avere delle informazioni a riguardo mi faccia sapere qui nei commenti però ho trovato davvero molto pesante è un film che poteva tra l'altro durare secondo me anche molto di meno di quanto non sia durato e non è che duri chissà quanto dura poco meno di due ore però mi sono sembrate davvero quasi sei ore è un film che poteva essere sfoltito e soprattutto ripeto poteva probabilmente goderne se a rappresentare il fulcro completo della narrazione fosse stato davvero soltanto Michelangelo Merisi il Caravaggio che ovviamente è il protagonista soprattutto dei flashback soprattutto di quello che è il racconto che ci mostra il Caravaggio e che poi lo porterà ovviamente anche a subire la condanna o meglio subire a ricevere la condanna ma lui fuggirà verso Napoli ma nel complesso il film per me non funziona a dovere nella narrazione in quella che è proprio l'evoluzione stessa degli eventi e in questa continua alternarsi tra il presente ed il passato per quanto riguarda il personaggio del Merisi appunto poteva essere reso in maniera migliore e tra l'altro paradossalmente e qui è uno dei punti che mi ha fatto stare un pochino più come dire sull'attenti il personaggio del Caravaggio che è interpretato da Scamarcio non mi ha convinto nella sua totalità nella sua globalità ma paradossalmente Riccardo Scamarcio che è un attore che io non apprezzo lo posso dire tranquillamente è un attore purtroppo che io non ho mai avuto la possibilità di stimare di apprezzare l'ho sempre trovato purtroppo fuori contesto in quasi tutti i suoi film quasi tutti i suoi film paradossalmente qui Scamarcio è uno degli elementi migliori del film è uno degli elementi migliori del cast e ripeto questo per me non è necessariamente un pregio del film è sicuramente forse un pregio per quanto riguarda Scamarcio che qui tutto sommato riesce a cavarsela Scamarcio nel corso della sua carriera per me si salva pochissime volte una di queste potrebbe essere per esempio la sua prova in mine vaganti di Ferzan Ospetek ma nel 90% dei casi Scamarcio è sempre in grado di deludermi è sempre in grado di non come dire stimolare il mio interesse è un attore che purtroppo non riesco ad apprezzare qui tutto sommato se la cava con un personaggio ripeto che probabilmente non è stato scritto in maniera in maniera diciamo interessante al 100% è in maniera efficace al 100% però lui si salva però ripeto questo secondo me è un problema più del film che è un pregio di Scamarcio perché tutti gli altri personaggi quasi tutti sì a parte Michele Placido che però ha una parte davvero piccolissima si ritaglia un piccolo cameo un'apparizione ma niente di che ma tutti gli altri protagonisti del film e tutti gli altri personaggi anche qui secondo me non funzionano a dovere e non funzionano purtroppo neanche le prove attoriali ora abbiamo anche una grande attrice come Isabella Juppert per esempio che purtroppo in questo film viene in qualche modo svilita dal doppiaggio così come ho trovato un problema enorme nel doppiaggio di Luis Garrel Luis Garrel in questo film non è che mi abbia entusiasmato più di tanto per quanto riguarda la prova recitativa anche se il suo personaggio probabilmente imponeva questa sorta di freddezza glaciale dall'inizio alla fine ma proprio alla luce di questo proprio alla luce di questo io ho trovato davvero disarmante il doppiaggio ora io non so chi lo abbia doppiato probabilmente Luis Garrel si è autodoppiato perché andando anche a fare delle ricerche su internet non ho trovato informazioni sui doppiatori di questi personaggi soprattutto di Luis Garrel quindi probabilmente si è autodoppiato anche se durante la visione del film io ho avuto quasi la sensazione che Luis Garrel fosse stato doppiato da Adriano Giannini perché c'erano dei momenti in cui mi sembrava quasi di ascoltare la voce di Joaquin Phoenix nel film Joker per intenderci dove appunto è doppiato da Adriano Giannini però facendo delle ricerche appunto su internet non ho trovato riscontri di questo tipo quindi evidentemente Luis Garrel si è autodoppiato anche perché si vede dall'abbiale recita in italiano ma è un doppiaggio davvero che fa sanguinare le orecchie fa sanguinare le orecchie perché perché non so in che per quale motivo non so in che modo non so se sia stato un errore una cosa volontaria non lo so ma il doppiaggio è completamente scollegato da quella che è la prova attoriale di Luis Garrel Luis Garrel ripeto ha portato in scena da quello che probabilmente era stata anche la scrittura del personaggio in sceneggiatura un personaggio glaciale freddo spesso quasi anche a mimico non ha espressioni facciali e quindi con una prova recitativa mi verrebbe da dire quasi sotto le righe cioè per sottrazione ma il doppiaggio è qualcosa di completamente diverso spesso viene esagerato nel modo di anche pronunciare le frasi nel modo di esprimersi e vanno a cozzare le due cose in una maniera insopportabile e ripeto è una cosa purtroppo che il film subisce e ne risente per quasi tutta la sua durata perché Luis Garrel è uno dei coprotagonisti del film è un come dire un personaggio che entra in gioco in quello che è il racconto del presente e lo troviamo dall'inizio fino alla fine quindi non è un personaggio secondario dici tu vabbè compare una volta e basta uno lo può sopportare per quei minuti in cui compare e poi Amen no lo ritroviamo dall'inizio fino alla fine e dall'inizio fino alla fine c'è questo palese problema nel doppiaggio non ho idea di cosa sia successo però quindi è stata una mia sensazione una mia impressione che però non va via con il passare delle ore ed è stato forse uno dei problemi più gravi di questo film è chiaro che stiamo parlando di una componente non strettamente legata alla scrittura del film in sé per sé però è chiaro che se io guardo un film soprattutto un film nel quale il personaggio uno dei personaggi principali è stato doppiato da Cani beh è chiaro che il film poi ne risente purtroppo come dicevo purtroppo anche gli altri personaggi della storia del personaggio del cast e quindi gli attori del cast non mi hanno convinto fatto salvo come ripeto Michele Placido c'è per esempio Brenno Placido che è il figlio di Michele e anche qui io non riesco in alcun modo ad apprezzare questo attore dovrà ancora maturare dovrà ancora crescere io lo ricordo con piacere con nostalgia probabilmente alcuni di voi lo ricorderanno pure per avere partecipato alla fiction Tutti pazzi per amore probabilmente lo ricorderete come uno dei due figli della protagonista femminile e già lì non è che fosse chissà quale grande attore però era anche agli esordi era piccolo va benissimo ma nel corso degli anni evidentemente non è che sia poi migliorato più di tanto purtroppo non mi ha convinto assolutamente in quello che è il suo personaggio così come purtroppo continua sempre a non convincermi ed è un discorso molto simile a quello che ho fatto per Scamaccio Michela Ramazzotti davvero io non riesco ad ascoltarla questa donna io non riesco a comprendere come possa lei recitare sempre alla stessa maniera come se stesse facendo un personaggio della non so diciamo degli anni 2000 del 2022 toscano chiaramente perché ha questa cadenza chiaramente toscana almeno credo sia toscana ma in un film ambientato nel 1600 ora ripeto io non riesco ad apprezzarla già di mio però qui davvero stona in maniera evidente così come del resto non ho ben compreso la decisione di far parlare molti dei personaggi molti dei anche dei delle comparse con una forte un forte dialetto di quello che è il luogo ma che non so ripeto se nel 1600 fosse davvero così che si parlava perché c'è per esempio una parte ci sono le sequenze ambientate a Roma in cui i personaggi anche magari i personaggi di strada o anche i personaggi magari più importanti che parlano in dialetto romanesco ora non ho idea se nel 1600 il dialetto romanesco fosse già uguale a quello di oggi perché parlano come oggi praticamente potrebbe essere una scelta per caratterizzare in qualche modo la situazione i personaggi stessi per farci capire che siamo in una determinata location una determinata ambientazione ma stona davvero anche in questo caso tanto valeva farli parlare in italiano non in dialetto romanesco così come anche quando le scene sono ambientate a Napoli o in Campania c'è uno spiccato utilizzo della cadenza del dialetto campano del dialetto napoletano e anche lì non so se nel 1600 si parlasse già come si parla adesso a Napoli mistero che non so in qualche modo risolvere evidentemente dovrò andare a fare delle ricerche anche qui se avete delle informazioni in merito fatemelo sapere fatemelo sapere qui sotto però devo dirvi che anche ammesso che nel 1600 si parlasse in romanesco diciamo che nel film tutto questo non funziona a dovere e ripeto e tutto questo purtroppo va in qualche modo ad amalgamarsi con delle prove recitative che non mi hanno purtroppo convinto un film un film come detto troppo lungo un film che potrebbe rappresentare degli spoiler perché si prende delle libertà anche per esempio in quella che è la fase finale della vita di Caravaggio ora non è uno spoiler il fatto che Caravaggio sia morto molto giovane non vi sto qui a rivelare in che modo viene come dire in che modo va incontro a morte in questo film è una ricostruzione a quanto pare comunque frutto di fantasia perché è una delle ipotesi relative appunto alla scomparsa del Caravaggio però qui diciamo che non vado a sindacare più di tanto mi sta bene che come dire il film abbia voluto sfruttare questa ipotesi questa ipotesi più o meno di fantasia va benissimo non è quel problema principale del film il problema del film risulta essere tutta la restante parte fondamentalmente però come dicevo poc'anzi in realtà il film comunque io non riesco a bocciarlo totalmente è un film che comunque ha una come dire un suo come dire fornisce degli spunti di interesse per esempio quelli che sono i momenti creativi del Merisi di Michelangelo Merisi del Caravaggio soprattutto in quelle scene in cui Michelangelo Merisi porta avanti la realizzazione dei propri dipinti ripeto come dicevo poc'anzi sfruttando dei modelli delle persone appartenenti anche ai ceti molto più bassi ed è interessante anche questa sorta di backstage mettiamola così dei quadri più famosi quindi con quella che è la ricostruzione della scena che poi noi vediamo effettivamente nei quadri inoltre un altro punto di forza del film è rappresentato sicuramente dal comparto tecnico inteso come scenografie con delle ottime ricostruzioni scenografiche dell'epoca ora anche qui io non sono un grande esperto della Roma o di Napoli della campagna del 600 però tutto sommato l'impatto visivo l'impatto estetico mi ha convinto così come un'altra cosa che ho apprezzato parecchio è stata la gestione della fotografia quindi delle luci dei colori perché perché io ho trovato in questo film un omaggio anche a quella che è l'arte del Caravaggio a quelli che sono i dipinti del Caravaggio ora ripeto io non ho un'approfondita conoscenza però una cosa che mi ricordo da quelli che sono stati i miei studi scolastici sul Caravaggio era l'utilizzo della luce nei suoi dipinti soprattutto il contrasto tra oscurità e luce con per esempio i personaggi che appunto si trovavano magari in delle stanze o in delle appunto in degli ambienti completamente buio molto bui ma con degli squarci di luce che andavano ad illuminarli chiaramente era un modo per andare in qualche modo a raffigurare la luce divina quindi per andare ad infondere nei quadri una componente divina che tra l'altro ripeto portò Caravaggio anche a come dire a dei forti contrasti con la chiesa ora il film ha una come dire gestione delle luci dei colori molto simile a quella dei quadri del Caravaggio quindi penso che sia un omaggio che hanno voluto realizzare perché perché è un film che per quasi tutta la sua durata ha un'atmosfera molto cupa molto angosciante mi verrebbe quasi da dire in alcuni momenti è davvero quasi oscuro per quanto riguarda le location le ambientazioni con la presenza però di questi momenti in cui la luce si apre in cui la scena si apre diciamo mi viene da dire con la possibilità di andare ad illuminare soprattutto ripeto le persone che vengono poi come dire sfruttate come modelli e quindi io ho visto in tutto questo un omaggio proprio a quelle che erano le modalità di Caravaggio nel realizzare i propri dipinti quindi questo sicuramente è uno spunto di interesse che il film fornisce è proprio il comparto tecnico ripeto è probabilmente la componente migliore dell'intera pellicola chiaramente da un punto di vista registico non è che ci siano grandi problematiche Michele Placido è un uomo di cinema navigato quello che ripeto a me non ha convinto più di tanto è proprio la struttura complessiva della narrazione la struttura complessiva del film la scrittura anche dei vari personaggi è un film che ripeto mi è risultato troppo troppo pesante troppo ridondante in molte sue parti soprattutto in quella ambientata nel presente e nel complesso non efficace nel costruire un'immagine secondo me che avrebbe meritato un maggiore approfondimento quella appunto del Caravaggio quella di Michelangelo Merisi e che in questo film purtroppo non è avvenuta però ripeto gli darò un'altra opportunità non credo al cinema aspetterò che arriverà in home video oppure anche nelle piattaforme di streaming perché magari alla luce del fatto di conoscere già il film e di sapere dove andrà a parare potrei avere come dire la possibilità di rivalutarlo in senso positivo non mi sento neanche di sconsigliarvene la visione voi andatelo a vedere in sala questo film è pur sempre un film italiano bisogna comunque sempre sostenere i progetti italiani a meno che non siano delle monnezze inenarrabili quindi andatelo a vedere anche per farvi la vostra idea perché ripeto è probabile comunque che se magari doveste avere una maggiore conoscenza dell'argomento potreste apprezzarlo maggiormente quindi andatelo a vedere e fatemi sapere la vostra opinione ed infatti adesso io chiedo a voi che cosa ne pensate di questo film se lo avete già visto fatemi sapere la vostra idea se vi è piaciuto se non vi è piaciuto fatemi sapere in entrambi i casi le motivazioni se lo andrete a vedere eventualmente ci ribecchiamo qui sotto tra i commenti e scrivete la vostra opinione perché vi leggerò con molto piacere io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per aiutarmi a far crescere ancora di più il canale come state meravigliosamente già facendo e se dovete fare degli acquisti su amazon fateli attraverso il link in descrizione perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della spesa sarà girata da amazon al sottoscritto in maniera automatica qui sotto in descrizione trovate anche il mio canale telegram se volete iscrivetevi anche lì noi ci becchiamo ad una prossima video recensione ad un prossimo video magari in una delle puntate delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale vi ricordo anche di iscrivervi come sempre anche alla mia pagina facebook e come sempre io vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti